Si è svolto domenica scorsa al San Lorenzo Stadium di Contrada Galicia a Patti il primo memorial Maurizio D'Amico, un evento che ha visto insieme le comunità di Patti e di San Piero Patti per ricordare un giovane prematuramente scomparso. I due comuni hanno dato il patrocinio alla manifestazione attorno alla quale sono stati in tanti a sentirsi coinvolti, soprattutto per essere vicini alla moglie Angela e alla piccola Emma, alle quali sono stati consegnati i fiori ed una targa ricordo. Prima è stata disputata una partita con i piccoli, a cui è stato consegnato un ricordo e poi è stata la volta dei grandi. Prima di questa partita sono stati consegnati i fiori e la targa ed è stato osservato un minuto di raccoglimento. Maurizio D'Amico era un giovane che si è fatto apprezzare nel lavoro, nello sport e nei rapporti con gli altri e la partecipazione massiccia al memorial lo ha testimoniato in pieno. Per il comune di San Piero Patti è intervenuto il vice sindaco Armando Interdonato. Al termine delle partite, dolci e torte per tutti ed un arrivederci al secondo memorial. Grazie a tutti.